a tutti genesi focus molto veloce molto sintetico di cosa vi parliamo qual è il focus dov'è che vogliamo che sia la vostra attenzione oggi su un evento che abbiamo il piacere di organizzare a fine giugno il 29 il 30 di giugno saremo gli organizzatori del meeting internazionale pro cross il meeting internazionale pro cross significa avere qua in italia distributori allevatori di pro cross da tutto il mondo avremo delegazioni da tantissimi paesi compresi gli stati uniti avremo dall'inghilterra dalla spagna dal portogallo germania francia olanda danimarca svezia estonia un sacco veramente un sacco di paesi e naturalmente ci piacerà avere anche voi come nostri ospiti avremo un programma molto ricco ci sarà una parte scientifica quindi delle conferenze alla mattina e delle visite aziendali nel pomeriggio avremo anche il tempo di divertirci e di stare insieme con simpatia e con relax dobbiamo prendere sempre tutto in maniera seria ma anche divertendoci genesi project onorata di essere l'organizzatrice noi abbiamo partecipato diversi meeting internazionali di pro cross in diversi paesi e vi segnalo semplicemente di tenere d'occhio queste due pagine una è la pagina www.procross.info dove di volta in volta troverete notizie man mano che ci avviciniamo al periodo troverete notizie che riguardano appunto questo meeting e ovviamente anche la pagina di genesi project quindi la pagina facebook di genesi project dove troverete di volta in volta le notizie che riguarderanno il meeting mi permetto di segnalarvi di nuovo le date allora vediamo se riesco a farvele vedere per bene quindi questo è il mese di giugno e le date che ci riguardano saranno il 29 e il 30 di giugno quindi gli ultimi due giorni del mese che sono un mercoledì e giovedì quindi il meeting avrà la durata di due giorni alla mattina una parte scientifica e al pomeriggio visite aziendali ci sarà il modo di prenotarsi di vi spiegheremo come registrarsi e confermare la propria presenza ci auguriamo di organizzare qualcosa di veramente interessante sia dal punto di vista scientifico ma anche dal punto di vista comunicativo e di scambio di esperienze e avrete modo se vorrete partecipare di conoscere di scambiare opinioni anche con allevatori appunto che verranno da diversi paesi del mondo ricordatevelo segnatevelo già in agenda adesso mercoledì e giovedì 29 e 30 giugno di quest'anno il meeting internazionale di procross si terrà in italia ospitato e organizzato da genesi project man mano che andremo avanti avrete nostre notizie seguiteci chiedeteci informazioni avete tutti i nostri contatti canali social sarà un piacere tenervi aggiornati e farvi scoprire il programma che abbiamo in mente per tutti quanti voi con questo vi saluto ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao